Tre giovani studentesse di tre differenti facoltà dell'Università Cattolica di Piacenza con un denominatore comune, la bravura negli studi, riconosciuta e premiata da Inner Wheel Club Piacenza, Rotary Club Farnese e Rotary Club Piacenza. Quest'anno abbiamo tre premiate, tre studentesse, siamo molto contenti perché noi come club femminile, il club femminile più grande e più diffuso al mondo siamo molto felici di premiare tre ragazze, però principalmente ci interessa premiare comunque il merito, quindi riconoscere agli studenti il merito dello studio, dell'impegno e questo da ormai 31 anni. Tre giovani menti iscritte al primo anno dei corsi di laurea magistrale pronte tra breve ad affrontare il mondo del lavoro. È una facoltà che mi appassiona molto e quindi è stata proprio una soddisfazione per me a vincere questo premio. Ho scelto di proseguire perché mi sono appassionata dal primo anno nella triennale di Scienze e la Formazione e ho proseguito perché penso sia fondamentale che ci siano delle persone che possano pensare e progettare il futuro dei giovani e delle persone per dargli un futuro migliore. Adesso sto comprando la magistrale in Banking Consulting, è molto centrata sulla consulenza e anche sul mondo delle banche, quindi investimenti e sicuramente mi farà piacere andare a lavorare nelle banche di investimento, però vedremo poi il lavoro e cosa ci offre. Per loro la formazione non è ancora finita, andrà avanti e poi appunto l'inserimento nel mondo del lavoro. Certo, dopo aver terminato la laurea triennale ora sono impegnati nel conseguimento della laurea magistrale ma già sono avviati verso un futuro professionale di sicuro successo.